Bella raga, sono Femma e Marulli Siamo a tetto video di oggi, non vado a indovinare le lingue del mondo L'ho scaricata con un'applicazione che si chiama The Language Game Devo fare così Cazzè Primo step, iniziamo Numero uno Che lingua è? Frangese, Portoghese, Italia Portoghese Tu hai un giro, non è un giro. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.